salve sono davide conti titolare della pro integra azienda che opera da oltre 15 anni nel settore della domotica la nostra particolarità è sempre stata quella di essere completamente indipendenti cioè di non avere accordi commerciali con nessuna azienda produttrice questo ci dà la forza di non avere chiaramente influenze nella scelta del prodotto quindi di poter scegliere a seconda di quelle che sono le esigenze il prodotto più consono in questo corso andremo a trattare alcuni punti molto importanti esempio come funziona la domotica che cos'è un sistema bus la differenza tra un cablaggio tradizionale e un cablaggio domotico come progettare un impianto domotico quali sono gli errori da non fare nel progettare un impianto domotico sono tutti argomenti che sono assolutamente svincolati dalla scelta del prodotto una cosa molto importante andremo a chiarire una volta per tutti che cos'è effettivamente un impianto di domotica di modo che anche se domani un vostro cliente vi dirà e vi chiederà soprattutto anch'io voglio un impianto di domotica voi siete in grado di rispondere al vostro cliente e di dire effettivamente di che cosa si tratta e qual è la funzionalità e la potenzialità di un impianto di domotica al di là del prodotto l'obiettivo di questo corso è di dare la possibilità di incrementare a voi installatori la vostra potenzialità professionale l'obiettivo di questo corso è di farvi diventare effettivamente integratori di sistemi